Si fa presto a raccontare di Francesco, 42 anni, come tecnico debutto nel 2008 a Lanciano, esonerato a inizio girone di ritorno in Lega Pro dalla prossima matricola cadetta, passa al settore giovanile del Pescara in prima divisione, a inizio 2010 subentra Cucurè e due vince ai playoff, al debutto in B una buona stagione con il lancio di Verratti, oggi uomo mercato vicino alla Juve. La scorsa estate il Lecce chiamò subito in A di Francesco, 8 punti in 14 gare, esonerato per Cosmi che sfiora la salvezza, ecco questo ingaggio ricorda quello di Arrigoni arrivato a Sassuolo dopo licenziamento e retrocessione, Eusebio deve far dimenticare Pea, è molto difficile.